L'attenzione dell'Istat al mondo del non-profit risale al 1999, quando fu svolto il primo censimento di questa realtà così complessa ma così importante per la società e l'economia italiana. Fu fatto poi un aggiornamento dei dati in occasione del censimento del 2001 ma questa volta faremo una fotografia molto più dettagliata perché nel frattempo questo mondo è cambiato molto e dovremo riuscire a capire tra le istituzioni potenzialmente soggette al censimento quelle più robuste, quelle che rispetto a dieci anni fa sono cresciute in termini di addetti, in termini di attività e quelle che invece sono più recenti o magari sono molto ridotte. In un momento nel quale la crisi economica richiede anche nuove forme di welfare questo mondo svolge già adesso e può svolgere in futuro un ruolo fondamentale ma non solo su questo lato anche sul mondo produttivo. pensiamo alle cooperative sociali ed altre forme di associazionismo che caratterizzano l'Italia e che rappresentano certamente un elemento di forza del nostro tessuto economico e sociale. Le oltre 400 mila istituzioni che noi cercheremo di fotografare attraverso il censimento hanno caratteristiche molto diverse. Andiamo da associazioni che hanno un radicamento su un territorio ampio ad associazioni, micro associazioni che invece intervengono soltanto su un territorio molto limitato, per esempio sono istituzioni che si rivolgono a un'ampia platea di utenti e invece istituzioni che hanno un target molto specifico ancorché importante. E' proprio la mancanza di una fotografia dettagliata che grazie al censimento sarà possibile che ci rende un po' opaca questa realtà e il censimento riuscirà a dissipare questa questa nebbia informativa aiutando non solo le istituzioni ma anche la politica a trovare spero le forme migliori per sostenere questo elemento fondamentale della società italiana. Il censimento parte da una lista precensuaria che noi abbiamo compilato sulla base dei segnali di natura amministrativa ma sappiamo che questi registri non sono esaustivi quindi sarà importante che tutte le istituzioni che attraverso la campagna di comunicazione verranno a conoscenza del censimento e che magari non riceveranno il questionario in qualche modo si dichiarino si facciano avanti attraverso i nostri centri di assistenza, di informazione e noi naturalmente effettueremo il censimento anche di queste realtà perché vogliamo che questa operazione sia più esaustiva e più precisa possibile.